La lunga attesa è finalmente terminata. Da qualche giorno Cracro non è più isolata. Come da cronoprogramma, la provincia di Matera ha installato il ponte d'acciaio, riaprendo la strada provinciale ex 176 Craco-Pozitello-Pisticci-San Basilio, interrotta da circa un anno per via di un crollo. Sì, io innanzitutto voglio ringraziare la mobilitazione dei cittadini. Senza di loro, secondo me, saremmo ancora in alto mare. Quindi, innanzitutto, un grazie al loro impegno, alle lotte, al comitato, dei cittadini non solo di Craco, di quelli che si sono impegnati. Chiaramente un ringraziamento all'impresa che è stata a Celere, devo dire, Solerte, nel realizzare le opere. Per i lavori sono stati investiti circa 2 milioni di euro, risorse importanti, che hanno permesso ai cittadini di Craco di recuperare autonomia sociale ed economica. Al momento è vietato l'accesso ai mezzi pesanti, che dovranno continuare lungo altri percorsi per strade adeguate a reggere i loro carichi. Adesso dobbiamo portare avanti il progetto della Pistici Scalo Valdagri con l'ANAS, perché chiaramente nessuno si immagini che questa sia la soluzione definitiva. Noi questo non lo accetteremmo mai. Però è una liberazione per tutti noi, per tutta la comunità.